Grazie a tutti Poi ci direi un po' tutti gli strumenti che suoni Perché hai portato con te uno strumento Ho portato uno strumento Non lo so, se vuoi anticipiamo Se no lo lasciamo come sorpresa per dopo No, no, anticipiamo Allora, ho portato la zampogna Che non è Natale però Non è Natale, ma l'idea della zampogna legata a Natale è solo nostra E bravo, hai ragione In realtà il Calabria è uno strumento ancora vivo Utilizzato sempre in tutte le stagioni Anche, non lo so, nel Basso Lazio, nel Cilento Ma ci potrai far sentire Già, li potremmo sentire qualcosa in diretta, sì Perfetto, allora sentiremo qualcosa in diretta Nel frattempo, poi lasciamo in sospesso Gli altri strumenti che tu conosci Che sai suonare, no? Che suoni Certo Intanto questa terra dei suoni È a Bari? È a Bari, sì, sì, sì È un'associazione culturale, musicale E ci occupiamo della musica tradizionale Barese Quindi legata al territorio di Bari Vecchia Pugliese in generale Bello, bello, bello Sono contento Io chiederei a Gaetano, Gaetano Romanelli Di preparare il suo strumento Intendo strumento musicale Perché del suo strumento fisico Non ce ne frega un chersi Allora, invece con Luigi Luigi, possiamo... No, vabbè, io volevo chiaramente dire Che terra dei suoni È chiaramente un'associazione iscritta a Federitalia E quindi come tutti i presidenti Delle nostre associazioni iscritte Partecipano in questo... Ma salutiamo anche la mamma di Gaetano Mariella Sì, sì, sì Un saluto particolare 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 Allora, cominciamo a parlarne Così ne fa tempo Gaetano prepara... È pronto È già pronta la zampone? Oh, ragazzi È bellissimo Con tutti i campanelli Ma ragazzi, che bella È fantastica Pure un pupazzo sta Quella è il portafortuna La pecorella Allora... Beh, io devo dire Di aver visto Luiz Gaetano suonare In occasione del Presepe Vivente A Casa Massima Ed è stata un'emozione Abbastanza forte Perché questo suono Poi nel contesto generale Del Presepe Vivente È stato veramente molto bello E adesso noi possiamo anche Rappresentarlo qui Allora, chi fa il bue Chi fa l'asinello Chi fa il suo bambino La Madonna Trim San Giuseppe Non più vergine però Vabbiamo E niente, allora possiamo No, aspetta Beh, io anziché il brano Voglio sentire Gaetano A questo punto Eh, assentiamoci Gaetano E non va il brano Allora Gaetano Sì Che cosa ci fai ascoltare Col tuo strumento? Facciamo così Io direi di partire Da una pastorale Sì Che è la tipica canzone Che ci riporta L'atmosfera Più o meno natalizia Sì Per poi passare Ad una tarantella calabrese E qua Chi vuole ballare Può ballare Benissimo Allora Nel frattempo Io chiaramente Chiedo a Raffaeggia Che c'è Di far cadere la neve Così abbiamo l'idea Che è Natale Allora Gaetano Romanelli Con la sua Zampogna Grazie a tutti 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 L'atmosfera Che bello Ragazzi Ci vuole un uffiato Ci vuole però Purtroppo con questo clima La zampogna Che è uno strumento Si vergogna La zampogna No si vergogna Tende a scordarsi Si Si scorda Perché con l'umidità No è fatta di legno Subisce Certo Però non si è Non si è sentito proprio Vabbè diciamo Che è il tradizionale suono Della zampogna Arcaico Che ci può ricordare Quasi un greggio di pecore No E quindi Senti ma quali altri strumenti Suoni tu? Allora io suono La chitarra battente Cosa sarebbe La chitarra battente? Sarebbe la vera chitarra italiana Prima Prima dell'arrivo in Italia Dalla chitarra francese Che noi oggi chiamiamo Chitarra Classica Classica E questo strumento è utilizzato Sul Gargano Tantissimi Tantissimi ma proprio Tanti tanti anni fa Ero di passaggio a Carpino Tanti anni fa E volevo fermarmi Perché era tardi Per dormire Andiamo a Carpino Vediamo Andare su Andare su e chiesi Ma per dormire Per dormire E tra la casa No dico Un albergo Un albergo Ma non esiste Però Non c'era una pensione Nulla 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 Oggi è cambiato Beh certo Adesso non è più così Oggi sono le fave Che sono ottime Di Carpino Carpino è famosa Per le fave E anche per Diciamo Le arance I mandarini Insomma In quella zona E' vero Senti Sono veramente contento Io poi Naturalmente Se ti va Possiamo ascoltare Un altro brano Se Visto che abbiamo Siamo legati Alle tradizioni Ma abbiamo un brano Legato alla tradizione Barese Certo Lo abbiamo Abbiamo San Nicola Abbiamo Baccia la Marine Tutta una serie di canzoni Dedicate Diciamo Alla città di Bani Mi scegli per dopo Un pezzo Non tanto conosciuto Magari Perché magari San Nicola Almeno se è quello classico Lo conosciamo un po' tutti Però se tu Magari mi tiri fuori Dal cappello magico Anzi Dall'Otre Dalla Zampogna Un brano Non dico inedito Un brano poco conosciuto Magari La novità Va bene Grazie Gaetano E allora Adesso invece Proprio perché abbiamo Di Baresità No? Argilo di Bari Melo da Bari Eccetera Tu da Bari A Bari Che cosa? Se io dico Bari E dico Abbascia la Marine Giusto Ecco Allora questo brano Me lo vuoi presentare? Beh Gaetano Ormai È il simbolo Della nostra Baresità E pugliesità Nel mondo Dovunque Io mi sono trovato In questi anni A cantare questa canzone Tutti conoscono Il ritornello E chi la canta Con te questa canzone? La canti da solo? In questo caso Sì però noi diciamo Il gruppo è formato Da 5-6 persone C'è la cantante Lo vuoi dire? Dai dai Allora sì Allora la voce La cantante femminile Elisabetta Puliero Alletta Morre Tamburelli Mariana Ruggeri Al violino Rocco Labadessa La chitarra E flauto Valerio Zaccaro E io con tutti i miei strumenti Gaetano Alla zampogna Gaetano Romanelli Allora Ma c'è anche la tua voce qui Qui ci sono io Allora voglio dire una cosa Questo è un live Stavamo in parte Umbriacchino In parte i ragazzi Che si sentono Che ballavano In sottofondo Che ballano in sottofondo E cantano Quindi non vi scandalizzate No Ok Ascoltiamo Abbasch alla Marine Allora voglio dire una cosa Che ballavano in sottofondo Sar ci sono io Che ballavano in sottofondo Che ballavano in sottofondo Allora voglio dire una cosa Che ballavano in sottofondo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E allora, bravo, bravo, bello, bello, le tradizioni popolari, si diceva prima Forionda che questo brano sono accaparrati in tanti, no? Ognuno poi ha detto questo è mio, questo è mio, come per altri brani, non voglio fare no. Ma in realtà le brani tradizionali sono così, passano da ogni paese, ogni paese si aggiunge un astrofo. E questo è mio. Questo è di Bari e basta, è di Bari e basta. Eh no, è della Bari, sa basta. Saluto Gaetano Romanelli con la sua zampogna. Allora, posso dire una cosa al volo? Ma poi al volo deve essere. Terra dei Suoni su Facebook, se ci volete ci cercate là. Se tu vuoi ritorni qui e ci fai ascoltare qualche altro brano o qualcosa. E poi saluto la mia fidanzata, Maria Antonietta, se no mi accido. Bravo. Ciao Maria Antonietta, grazie.